Fuori a porta di Sant'Antonio, del quartiere dell'infragibile, del ragazzo mega passato, e un po' bello e po' incredibile, al trener e adersenere, l'ousteria da Maras, una cese piccina, don Giuseppe e il suo ragazzo. I ragazzo, et li faig ibir, i apposmia d'esminger, sei per l'era e disponibil, sei per pronta d'esdefer, i ragazzo, et li faig ibir, desumai e pensioner, mal ricord, le inusidabili, l'amicizia alle resta. I ragazzo, et li faig ibir, i ragazzo, et li faig ibir, I ragazzo, et li faig ibir, i apposmia d'esminger, i ragazzo, et li faig ibir, i ragazzo, et li faig ibir, i apposmia d'esminger, sei per l'era e disponibil, sei per pronta d'esdefer, i ragazzo, et li fa ibir, desumai e pensioner, mal ricord, le inusidabili, l'amicizia alle resta. I ragazzo, et li fa ibir, desumai e pensioner, mal ricord, le inusidabili, l'amicizia alle resta. I ragazzo, et li fa ibir, i apposmia d'esminger. I ragazzo, emusidabili, l'amicizia alle resta. Covid, ja è, сог города, le inusidabili. S rolls, so andes, bakala d'es Midori,